Più sensibilità e attenzione verso le tematiche delle barriere architettoniche, il Comune di Piacenza e Acer hanno avviato un percorso di riprogettazione di una ventina di alloggi di edilizia residenziale pubblica rivolti a persone con disabilità. Entro la fine di maggio verranno completati quattro alloggi, di cui due nel quartiere Sansepolcro e due in via 21 Aprile. A seguire partiranno i lavori di ristrutturazione di tre palazzi a barriera farnese, nei quali saranno realizzate dieci abitazioni a misura di disabili, saranno pronte nel 2017. Altri alloggi sono oggetto di ristrutturazione a barriera Roma. Si tratta proprio di cambiare, come dicevo, mentalità, vale a dire non considerare importante la predisposizione di alloggi per persone che sono portatori di disabilità, ma piuttosto di predisporre degli alloggi talmente flessibili che possono essere domani con pochi accorgimenti adattati alle esigenze di queste persone. Faccio un parallelo, è un po' come quando si costruisce una casa nuova e si dice all'elettricista tu predisponimi già l'impianto allarme piuttosto che la climatizzazione, poi deciderò io se in un secondo tempo implementarlo o meno. Ecco, per noi vale un po' lo stesso principio, quindi considerare gli alloggi che andremo a ristrutturare e a costruire con questo tipo di attenzione e di sensibilità. I progetti verranno sottoposti all'attenzione di un'apposita commissione composta da tutte le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità sul territorio. Partirà la convocazione di questa commissione, vogliamo sottoporre a questi cittadini i progetti, proprio i disegni degli appartamenti che Acer andrà a ristrutturare, quindi stiamo parlando di patrimonio immobiliare esistente. Pensiamo che il loro parere insieme a quello dei tecnici e per questo abbiamo coinvolto il centro regionale, il CRIBA di Raggiomiglia, sia fondamentale per a evitare di magari fare errori che in buona fede vengono commessi e b anche perché il parere delle persone che poi andranno ad abitare negli appartamenti è molto importante.